Pelatine e pelatine, bentornati! Oggi giocheremo alla demo di Destroy All Humans, remake dell'omonimo titolo che uscì per PlayStation 2 un bel po' di anni fa. Titolo che ho sempre voluto provare, ma ahimè, avevo tra le mani qualche altro titolo e... niente, proviamo! Allora, intanto attiva tutorial, sì, non invertito, lingua, italiano, ok... Configurazione e tasti, WS2B, intanto c'è il... ah, si può usare anche il controller! Si deve essere... come risoluzione? Ma no! Ma no! Eh, insomma, giusto? Ok. Si deve essere il carmine intero, ok. Perfetto, perfetto. Oltre, oltre... A posto. Dai, proviamo. Direi di usare il pad perché, raga, eh? Vuoto, perfetto. Umani del pianeta dare attenzione. Sembra che l'esperienza sia stata migliorata, il contenuto di scostante storiche dell'invasione regionale a opera dei furono rimangono sostanzialmente inalterati. Le vicende, le parole e le immagini qui contenute potrebbero sconvolgere il cervello umano moderno. Scusa? Uh, fico. Oh, salve! Eh, guarda! Ma che meravigliosi potrebbero esistere qua qui? Le mani estendete in amico. Aspettando il momento quando noi, umani, prendiamo i nostri tentativi passi nel spazio. Che storie che ci saranno dicendo sui vari giorni, quando siamo prima contattati dai nostri fratelli, dai nostri stadi. E vediamo che storie. Destruo il passo per l'umanità. Un grande passo per l'umanità. Sul l'umanità. Cinque. Quattro. Che cazzo? Merda! Cazzo! No, no, aspetta, aspetta, aspetta! Cazzo. Minchia, sposo tutto. Porca puttrella. Porca marisa. Noi praticamente in questo gioco impersoneremo l'alieno. Noi che tinta di distruggere l'umanità. Ok, vediamo un po'. Saremo già da un'altra parte. È fisso, eh, perché... Ah no, siamo lì. Aia. Sviene? È ferito. Boom. È svenuto. Mi sono sicuro che sia svenuto. Ah, cioè... Sì, sapete come ti è tenuto? Avrei dovuto mandare a te? Ah! Si dice... Costipato. Sì, sapete che sono semplicemente evolutivo come il tuo predecessore. Ecco. Non ti segui. Sì, sapete che... Sì, sapete che... Sì, sapete che... Le colonizioni si stanno degradando sempre più in ogni nuovo clone. Ma sono tutti i cloni questi qua? Ah! Sì, sapete che è buono, certo? Solo se vogliamo tenere la nostra immortalità. C'è la sua conduzione. Cerca grave. Inviato il cripto. In cerco di un pianeta che abbiamo invitato. E ogni fa. Un pianeta inseminato... Con puro DNA furono. Ho perso il contatto. Ma ho perso il contatto. Non si ha capito. Ti hai mandato a me? Insomma, lui... Sì, è un pianeta ostia e è scomparso. Forse è stato catturato. Forse in questo momento lo stanno torturando. E voi guarda... Smart cookie. Dai! Dai! Dai, dai! Dai, dai! Ahaha! Ahaha! Paci, custa. Lo prendo il tuo punto. Ho perso. Ecco il pianeta Il pianeta Questo è quello che sto parlando Allora, guardiamo con questo pianeta Il nostro destinato Il pianeta Terra Sono tutti cloni Cosa bizzarra Selezioni Lavoratori Archivi Selezioni Aspetto Ah, si può No, vabbè Questo Non è fuori No, vabbè No Missione, vai A posto Dai, alla bersagliera Fa volare le mucche Usa sovraccarico per sabotare i macchinari umani Fico, fico Dai, dai, che ci divertiamo E finalmente siamo dalla parte dei cattivi Now playing Blue Moon Plan 42 from outer space Cittazione dei vecchi film Anni 60 Credo Cosa del genere Dove atterriamo? Sulla mucca, ovviamente Sulla mucca No Un po' Un po' così Un po' basita Dai, dai, che Secondo me Questo giochino qua Non deve essere niente male, eh Già Già all'epoca Vidi Devo originare qualche video, qualcosa Non era per nulla male Ecco, è stata già una mer... No, fango? Eh sì Sulla mucca Sulla mucca Sulla mucca Sulla mucca Sulla mucca Da esistituzione E' più Un po' assente E' più probabilmente Sulla mucca Proviamo Parla mica di quello che Sulla mucca Oltre la stessa Ha 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 Che scorreggia Ma Sulla mucca Ma Sulla mucca Un po' più Sulla mucca sapevo che questo sa, oh figo, aggiungi il recinto di mucca, usa la scansione, primissimo, fatto, naturalmente. Ok, vabbè, ne scansioniamo un'altra. No. A posto. Quindi? La bocca. E da dove? Beh, già allora, perché? Non voglio saperla. Nè cazzo buon. Il processo è una lingua invasiva. Ci sono. Si è evaporizzato. Vabbè. Povera mucca, dai. Annega una mucca nel lago. Cazzo, fa male l'acqua. Che cazzo ne so? Povera mucca. Te le cinesi per uccidere le mucche. Ma povere mucche, dai. Mi spiace. Ma non è ma... A te. Boverine, dai, cazzo. Che sadico. Ma c'è la tele cinese e poi c'è anche la tele giapponesi. Ah, a posto. Salto. Marta, non mi vedi? Avevamo mangiato la grillata stasera? Mh. Dimmi il shotgun. Questo odore di... Zapomatic. Cazzo! Estrae il cervello? Estrae il cervello? Cazzo! Beh, sali qua! Pocca troia. Mini verde dello spazio. Non è proprio verde, ma... Che forte, dai! Fin tanto che hanno energia e gli scusi si prendono dei danni. Ok. Mi è colpito. Non ho risposto. Oh, sì, vabbè, vabbè. I tronchi c'erano di caliche lo scudo. Non avere pietà di... Oh, oh, oh. Dai. Fico. Dai. Ma pensa a te, dai! Che storia! Che si può distruggere? Sì. Aspetta, aspetta. Che figata! Ok, ah, basta... 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 Basta tenere premuto... Schiacciarla una volta, poi hai fatto tutto da solo. Non pensavo di aver tenere premuto. Ma chi è che fa casino giù di sopra? Tarnapsida? Il contadino che ha vita sull'attraverso di aver sentito dei momenti bizzarri. Per venire da questa parte. Non ho fognato con uno. Oh, il giocatore quantito potrebbe finire... Fare un buco nel continuo spazio... Merda! Nel continuo spazio temporale! Merda! Bisogna fermarli! Oh, la Fioronite! Vaporizzatele, Crypto! Figata! Cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Crypto! Il mio radar è arrivato! È arrivato! Hurry up! No! Devo uscire la moglie! Vai! È anche questa adesso! Ah, con un pollo! È vaffanculo! È buona! Posso distruggere questo? Eh, si deve caricare! Oh! Porca troia! Un altro cervello, vai! A posto! Dobbiamo andare via! A posto! Dobbiamo andare via! Entra! Dai, carino! Ah! Ah! Devo distruggere gli edifici! Fico! Perfetto! 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 Che spettacolo! Dai, carinissimo! Bella lì! Forte, forte! Bello! 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 Eh, che militari! Ci mancavano, eh! Ecco! Non lo so cosa farò! Ah! 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 All'interno dell'Israele umano! Non possiamo lasciare che avvisino i loro capi della presenza! Nostra presenza! Sterminali ora! Vai, vai! No, no! Che open fire! Per la prima... Per prima cosa gli direi di... Ah! Destroy all humans! Attaccolo lì! Tima! Dov'è? Dov'è? Ah! Ma l'ha assorbito! Fico! E muori! Ancora due! Vai! Ah! E' bello che c'è la minimappa anche, quindi... Oh! Minchia ancora! Ah dai! Spettacolo sto giochino qua! Ti sbagli come una merda! Vieni! Porco zio! Sì! Ancora! Vai, vai! Il raggio della morte! Eh! Il raggio della morte! Dai! Oh! Sì! Uh! Là cosa c'è? C'era un cosolino verde! Vorrei che... Boh! Vabbè! Vabbè! Molto carino! Dai! Giochi così a giorno d'oggi non se ne vedono, non so! Almeno! Vabbè! Esce questo però! Nel senso! Merda! I men in black! Eh! Minchia! Minchia! Eh! Vabbè! 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 Quindi è finita la demo! Rated T per teen! Ah! Fa vedere il trailer! Dai! Dai! Ciao! 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 Fico! No! No! Sto qua è proprio da prendere! C'è! Dai! Altro che GTA ragazzi! C'è! Questo! Get free skin pack! Spettacolo! Hervis! Che forte! 28 luglio ragazzi! Xbox One! PC! E PS4! Molto bene! Molto carino! Molto carino! Molto carino! Molto carino la demo! Bene ragazzi! Se non lo sai? Non lo sai! Non lo sai! Estazione cerebrale! Ah! Puoi fare gli upgrade! pensate va bene ragazzi è stato bello è stato molto molto carino il 28 luglio ragazzi segnatevi questa data perché secondo me questo remake merita davvero davvero tanto ragazzi io vi saluto e ci si vede al prossimo video ciao ragazzi buona giornata